E questa volta è Ergastolo ed è la prima volta in Italia che la condanna più pesante viene inflitta a un chirurgo. Un chirurgo riconosciuto colpevole di quattro omicidi compiuti sul tavolo operatorio, due donne e due uomini morti sotto i ferri o subito dopo l'intervento. Lesioni volontarie aggravate per altri 45 pazienti, sopravvissuti ma meno matti per sempre, da Pierpaolo, Brega, Massone, allora primario di chirurgia toracica della clinica Santa Rita, descritto dall'EPM durante la requisitoria come accanito e senza pietà nei confronti dei suoi pazienti. Brega, Massone, è stato arrestato quasi in aula non appena letta la sentenza per pericolo di fuga. Come sembra lontana oggi la storia della clinica degli orrori, la Santa Rita ha cambiato nome eppure accadeva solo sei anni fa. Un'indagine della ASL su alcuni casi tubercolosi in sala operatoria scoperchiava una lunga catena di esami invasivi e interventi chirurgici su malati per lo più anziani o in fase terminale. Operazioni definite dall'accusa che ha esaminato centinaia di cartelle cliniche inutili, spesso dannose, a volte letali, eseguite con una sola finalità, farle evitare i rimborso del sistema sanitario nazionale. Iniziava così sei anni fa la processione in tribunale dei pazienti o dei familiari di pazienti morti, tutti con il loro carico di racconti impressionanti. Per 79 persone operate senza necessità, il capo dell'equip, Brega Massone, era già stato condannato a 15 anni e in quell'occasione per un cavillo l'ex chirurgo è stato scarcerato, oggi era in aula il solito sguardo freddo. Stasera la prima notte in carcere, tre anni inflitti di isolamento diurno, la corte d'assisa ha condannato a 30 anni il suo vice Fabio Presicci e a 26 un altro suo stretto collaboratore.